La pienezza del vuoto è un progetto di ricerca di cui è stato promotore il Gran Sasso Science Institute, i cui risultati sono stati presentati oggi in occasione della giornata mondiale di lotta contro la povertà. Un'indagine sulle nuove forme di mutuo soccorso con il caso della rete dei numeri pari, che ha come obiettivo il contrasto alle disuguaglianze sociali, forme utilissime laddove l'Estato non riesce a garantire. L'indagine ha riguardato 91 realtà e sono emersi dati interessanti e diversi nei vari contesti. Nel centro-sud, ad esempio, il vuoto creato da carenze dello Stato tende ad essere riempito da economie, culture e welfare mafioso. Tra i presenti, Don Luigi Ciotti, presidente di Libera, che racconta come le mafie sono cambiate. Le mafie sono ancora più forti di prima, no? E noi vediamo che le figure dei grandi boss hanno abbandonato un po' le forme arcaiche, sono diventate un po' degli imprenditori, dei manager, no? Oggi le mafie fanno affari, sono nell'alta finanza. Restano le forme tradizionali sui territori, no? A cui si aggiungono alcuni volte alcuni aspetti che intuiscono delle modalità nuove per fare degli affari. La pandemia è stata una di queste occasioni, come lo sarà la guerra attuale, nelle grandi operazioni della ricostruzione, ad esempio, come sono le grandi opere, dove loro cercano sempre di infiltrarsi. Ai lavori ha partecipato anche Fabrizio Barca, ex ministro economista e co-coordinatore del forum disuguaglianze e diversità. Barca da sempre si occupa di questi temi. Ha parlato del tema, di come è stato affrontato quello delle disuguaglianze in campagna elettorale, con la sinistra che non riesce a farlo proprio. Non si parla d'altro, da 3-4 anni fino a 4 anni fa è come se non ci fosse, ma non basta parlarne. La sinistra aveva nella pancia anche alcune proposte interessanti, non le ha raccontate, si autocensura. Molta della classe dirigente del paese non pensa che si possa davvero cambiare, quindi non ce la fa a dire che si deve cambiare.